se vi dai un saltino salta giù eh, io l'ho fatto appoggiato se saltato eh, salta fuori che cazzo? eh, bravo di là l'ho fatto l'attura l'ho fatto che c'era la scuola l'ho fatto e anche se ci sono un momento non ho fatto non ho fatto non ho fatto Sì, di lì facciamo la salita quella schiema al contrario eh, in salita eh, no ma la facciamo in salita quella che volevi dobbiamo andare in giù eh, no andiamo di là, di là Ale, di là eh, torniamo giù di qui, sì, torniamo giù di lì perché di qua non la so eh, no andiamo, andiamo di qua Allora, Allora, Allora Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Hai mai guardato? Anche se qua passi ancora. Dai, lì ci sta. Guarda da qua che bel bus. Qua sei un po' distante. Potrebbe vedere com'è sotto. Vieni qua. Vieni qua e ti rendi conto di com'è sotto. E quella è andata giù in settimana, quella là. Pensavo che l'ha scavato. E beh, ma... Occhio da lì e Frank. Perché lì va giù. Questo è un chilo d'acqua adesso. Dai, facciamo una discesa qua. Siamo lontane. Puttiamo giù carcanello. Tu firma. Cazzo, si vede quasi, si vede casa mia, guarda. Sei in alto, eh. Bello. Ma qua poi è ancora passata. Bello e lampeggiante. Qua per un po' poi passata. Ma sì, ma qua sì, dai. C'è le piante che tengono. Cazzo, adesso va bene tutto. Di non sbagliare. Di non andare, no, ma lì è chiuso, vedi che è chiuso. Ma per dire, di non sbagliare. Cioè, il sentiero giusto è questo. La vibrazione? No, ma non arrivi fino all'alto. Ho detto, la vibrazione va giù. Cioè, c'è qua questi castani qua, questi qua tengono, eh. Bello. RR500. Strunz. Spampi e zampi, 500 vito.